buongiorno a tutti siamo qui con alessandro zollo portiere del cdc e vogliamo fare un commento sulla partita di oggi la partita di oggi è andata molto bene abbiamo vinto ma è stata ben giocata da tutte e due le squadre abbiamo fatto due gol ma ne abbiamo anche subito oggi abbiamo giocato molto bene infatti a parte un po la paperata che ho fatto che sta per andare dentro è andata bene è andato sul palo siamo stati fortunati ogni tanto ci vuole un po di fortuna anche causata dal campo ma niente siamo qui perché ti abbiamo interessato perché abbiamo delle notizie di calcio mercato purtroppo oggi se n'è andato re del calcio mercato minoraiola e qui abbiamo uno scoop il zollo cosa sono queste notizie perché forse l'anno prossimo quindi ormai è ufficiale oppure siamo ancora in trattativa trattativa spero che sia suoni milioni non di birra va bene sicuro ok poi parleremo con il tuo procuratore vedremo come sono le trattative salutiamo ale ringraziamo